Centinaia di persone fin dal primo mattino odierno hanno voluto rendere omaggio alla salma di Diego Moltrer, il presidente del Consiglio regionale morto ieri mattina stroncato da un arresto cardiaco durante una battuta di caccia. Presso il municipio di Fierozzo in Valle dei Moceni, paese nel quale risiedeva e del quale era stato a lungo sindaco, è stata allestita la Camera Ardente. In molti non hanno saputo trattenere la commozione, gli amici più stretti e i tanti colleghi politici hanno confortato la moglie e i tre figli nella casa di famiglia. Domani, sempre a Fierozzo, si terranno i funerali dell'esponente del patte che negli ultimi mesi si era battuto con tenacia sul fronte dell'avvertenza dei vitalizi d'oro e che, agli amici più cari, aveva confidato di aver profuso moltissime energie in una battaglia che in parte riteneva persa, visto che molti ex consiglieri avevano annunciato di voler presentare il ricorso avverso la nuova legge e, in sostanza, di volersi tenere quanto incassato. Domani, sempre a Fierozzo, si terranno i funerali. Intanto la stampa nazionale si sta occupando dell'odioso commento pubblicato su Facebook da Enrico Rizzi, segretario nazionale del Partito Animalista Europeo, che ha inteso commentare la morte di Moltrer durante una battuta di caccia con aggettivi che meritano la condanna più severa e che in realtà non meriterebbero alcuno spazio se non quello della più ovvia delle censure.